La stupidità, ah 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 ah, non ha mai un'età, ah 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 ah, è una legge della gravità, ah 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 ah. Che cosa sono i sistemi di domini? Sono tutti sistemi, tecniche, metodi, che qualcuno mette in atto per sottrarci tutto ciò che è possibile sottrarci. Detto con un parolone, per schiavizzarci. I dotti parlano, gli stolti parlano, ma sono una schiera di parolai, di esperti, di critici che si esprimono su argomenti di cui non sanno assolutamente nulla. Uppaluri, Gopala, Krishnamurti A disposizione avete il fantastico e completo indice alfabetico attraverso il sito tinelli.eu Sempre a disposizione, in bianco e nero, il libro Il Risveglio. A colori solo nella versione ebook.